Now I'm on the outside Un nuovo episodio anzi il primo episodio Di un nuovo minigioco ovvero evolution Mi avete tormentato in 20.000 Per fare questo minigioco quindi adesso lo andremo A provare insieme ad Anna che non l'ha mai fatto E vi ricordo ovviamente di passare Dal suo canale e lo troverete qui sotto In descrizione mi raccomando ragazzi Iscrivetevi perché mi vuoi buttare giù Che ragazza cattiva e ovviamente ragazzi Vi ricordo anche di lasciare un pollicezzo in su Qua sotto se volete vedere altri episodi Di questo minigioco quindi adesso Andiamo a cercare una partitozza Ok ragazzuoli Eccoci qui in partita per chi non Conosceste questo minigioco ovviamente si chiama Evolv perché lo scopo di questo minigioco è Quello di evolversi quindi dobbiamo arrivare Fino al livello 6 come vedete per ora siamo Tutti dei golem che col tasto destro abbiamo L'abilità speciale che possiamo saltare e facciamo Una specie di sisma attack E ogni qualvolta riusciamo a fare un'uccisione Avremo la possibilità di evolverci A livello successivo per esempio già ho fatto un'uccisione E premendo tenendo premuto Il pulsante shift se nessuno ci picchia Ho la possibilità di evolvermi Ovviamente se mi ammazzano dovrò fare un'altra Eccisione per evolvermi Alex tu dove sei? Cioè già hai fatto qualcosa? No Bene Aspetta aspetta Ovviamente ragazzi il primo il golem Poi c'è il blaze che tira fuoco Il creeper e tanto altro E poi l'ultimo se non sbaglio dovrebbe essere il pollo Adesso mi sono nascosto Incrociate le dita per me ragazzi Dai che non muoio Ok mi sono evoluto Adesso E questo qua Come vedete c'è No danno da caduta come effetto positivo Invece quello negativo E che se cado nell'acqua Prendo danno Comunque Anna se ti incontro Non ti ammasso Quindi cerca di fare la stessa cosa con me Ok Ok Allora Anna per ore ha 0 kill C'è un casino qui di gente Comunque ragazzi Come vedete col tasto destro Ho il bastoncino di bez Che mi permette di tirare fuoco Ovviamente devo cercare di attaccare Principalmente Non i blades ma i golem Perché i golem hanno Un effetto negativo al fuoco Rispetto ai blades Che esistono di più Ok Là sotto c'è uno Tu ancora c'è il golem veramente? Sì Ma mi sta Ce n'è uno che ti giro Mi sta fucussando Ma cerca di prendertela con i golem Che sono scemi Ok A meno all'inizio Oddio Già c'è uno che è ragno Perché ragazzi Dopo il blades Viene il ragno Ok Ho ammazzato uno Non so chi Adesso posso abbassarmi Per evolvermi Abbassati 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 Ok Io sono al Ah ce l'hai fatta Buona Io adesso divento un ragno Ragazzi il ragno come effetto positivo Non ha niente Se non sbaglio A parte Ah no Ha speed 1 Non prende danno da caduta E col tasto destro Sparo delle ragnatele Che in questo gioco Non sono inutili Ma bensì Fanno danno Quindi se uno rimane bloccato Sulle ragnatele Si fa male Quindi adesso Uh sono dietro di te Non mi ammazzare Alex Ok Ok Ehi Io non so Che mi giro Vabbè Cerchiamo di attaccare in gruppo Così lì sciottiamo Tipo là sotto è pieno di gente Visto Attenta all'acqua Che ti fai male Ecco Ok Ok Lì è pieno di gente Tu incendi Lì io Ragnatele Ti hanno tirato le ragnatele addosso Dietro di te Eh È morto Nanna selvatica Ragnatele Ragazzi Sono difficili da tirare i blaze Perché siccome volano Sono immortali Dio Scappa Scappa Poi ragazzi Dopo il ragno C'è il creeper Che il creeper è OP Uh Ho ammazzato uno Perché fa esplodere Solo che contro i ragni Il creeper ha qualche problema No Non mi fa saltarinare Ti prego Ok L'abbiamo ammazzato Se ci abbassiamo Ci possiamo trasformare Arriviamo al livello 3 Cioè siamo tra i primi in classifica Comunque Non sei l'unica scarsa Ancora ci sono due Che sono fermi al golem Tranquilla Ok allora ragazzi Adesso il creeper Cosa farà Non ha nessun effetto Né positivo né negativo Ma bensì tirando la gunpowder Creerà un'esplosione Che stavo per colpire Alex Però adesso la aiutiamo C'è un golem Aiutami Aiutami Incendia col blaze Ho beccato Anna Bravo incendi Incendia Ammarsi Ok l'ho ammazzato Aiutami c'è un ragno Te lo date l'uccisione Bella Ok Adesso evolviamoci qua dietro Non mi toccare Bravo Io no mi sto evolvendo Però sei in un punto abbastanza negativo Perché sta arrivando uno contro di te Ok Ragazzi siamo secondi Ci siamo trasformati in una slime Che come attacqua Ti salta in faccia E ti fa un 50% La donna da caduta Alex Perché Brutta Brutta ragno Brutta ragno Lasciami stare Sempre con due cuori Mi hai sciottato con un colpo Vedere un ragno Che inseguono slime è bellissimo Per inseguirmi Poi mi ammazzato Anna Guarda si sta evolvendo ragazzi Vabbè comunque tu in F5 riesci a vedere se una slime Perché ho provato l'altro ieri e funzionava Adesso invece non va Cioè mi fa vedere che sono con la skin Adesso ti dico No anche io lo vedo la skin Va bene Oh attento c'è una slime C'è il mondo Non mi attaccare almeno qui Dietro di te Eh vabbè c'è C'è troppa gente Ok Il mio scopo è quello di saltare in faccia alla gente Solo che Ragazzi più evolviamo più la cosa diventa difficoltosa Perché Non sono cose buone questi qua Soprattutto l'ultimo livello è il pollo Che è abbastanza scarso Quindi Dove inseguire questo che si sta per evolvere Quindi cerchiamo di saltargli in faccia Senza finire nella lava Magari Ok L'abbiamo preso Com'è che non muore? No sono morto Tu sei a 3 io sono a 4 C'è uno ragazzi che sta per vincere È arrivato a 5 praticamente Mi dito c'è uno No mi toccare? C'è uno c'è uno qui forse sei voluto Non lo so è buggato Cavolo Allora se vedi un certo John Ammazzolo Scappo No prenditela con lui Perché se riesce a fare un'uccisione e si evolve Abbiamo perso No ha vinto Happy Spark HD Vabbè ragazzuoli Dato che questa partita non è durata tantissimo E Anna non è stata bravissima Cercherò di farne un'altra Oh ma sono bene a te Danna cosa stai dicendo? Sì lo so siamo diventati Sono scarso quanto Anna Mi sono insultato da sola Ok ragazzuoli Eccoci qui in questa seconda Partitozza adesso con Alex Cercherò di fare un team Meglio di quello di prima Sperando che non mi attacchi alle spalle Comunque questa è la nostra prima preda Il signor B qualcosa Dai Muorici Mi sono morta No oggi stai facendo Wolverine Si fazzano Perché? Ok No mi hanno fregato la kill Mi hanno fregato la kill Questi sono tutti i miei Ma questo lagga come non so che cosa E' fatto salire di livello I Tizomi I Tizomi Buonissima vita Col sisma attack E prendendo la pugna Esatto L'ho ammazzato Adesso se riesco a devolvermi Senza che la gente mi spaventilla Ma eri tu? Sto arrivando No ti prego No mi ha ammazzato Mi dovevo evolvere Ragazzi questa è la cosa peggiore Quando uno si vuole evolvere Cioè Anna è sopra di me Già è diventata blazing Ancora sorfermo qui Attenta di adeserci il mondo Anvix Guarda Guarda un gente Questo va a fuoco Sisma Eh non c'è morto Veramente Oddio Sono buggato nella ragnatela Ragazzi il golem Contra il ragno Perde sempre il golem Non si può vincere Anna ti prego Non voglio finire il video Rimanendo a livello 0 No non veniva bene Dove sei? Dove sei? Non lo so Ok sono Dove ci sei tu? Voglio fare una kill Così almeno mi evolvo Cerca di farne una Eh ma la gente mi incendia Non sento che mi incendi Ok Ma tutti con me ce l'hanno Sisma Attack Non muore la gente Non muore Morendo solo io Non è possibile Non è possibile Già c'è Johnny Gaga Che è A tre Dimmi dove sei? Ma non lo so Io sono al centro Anzi io lo sto combattendo Contro un golem Che si sta evolvendo No Vuoi dire rimanere al mio stesso livello Ok Ho ammazzato Mi posso evolvere Qui in mezzo alla piazza Non mi noterà Nessuno Evolviti 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 C'è Kuki Ok Cazzi di un secondo Ce l'ho fatto Solo che ormai la gente È troppo avanti C'è già Anlix È a livello 2 Sì vi sono messo male Davvero Ma dai No 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 Basta Non ti ho niente più No dai ti prego Io scherzo Io scherzo Non credo di fare Dai ragazzi Contro i creeper Abbiamo qualche speranza Qualche però Ok l'abbiamo ammazzato Evolviamoci in mezzo alla piazza Perché ce l'hanno con me questi due Eh vabbè Mentre mi evolvo La gente mi deve attaccare Ti sembra normale come cosa Fammi evolvere Fammi evolvere Non mi toccate Vi prego Non ho fatto nulla Ok Ce l'ho fatta Livello 2 Livello 2 Tu già sei arrivato a 3 Livello 3 Adesso siamo ragno La cosa migliore Questa usare Guardate quanta gente C'è qua sotto Alex è prima Veramente Ma in base a cosa Questi coni sanno giocare Proprio Tutti scassi Oh ma scusa Evolviti 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 Dai che abbiamo Cambeccato da 0 A 3 Ok Oddio Sono arrivato già a 3 Adesso siamo i creeper Perché io non riesco Ad usare tanto bene Per niente Spero non ci sia Soltanto nessuno Che salga di livello Già sono saliti Due di livello Sono diventati Che cosa c'è dopo il rank Dopo il creeper Te lo ricordi Anna? Dai dico subito Te lo dico subito Anch'io Mi posso trasformare Che c'è la slime Evolviti No qui c'è uno brutto Eh vabbè Mi sta attaccando Alex aiutami Ti prego Fammi evolvere Fammi evolvere Ok Torna qui Torna qui Tranquilla Mi devi baciare il culetto Ok Ok c'è l'altro La slime Non c'è l'altro slime Quando vuoi Appena poi aiutami Ok Sono Sponato Ora Ok ci sono Attacca quello slime Dietro di te Quello lì Ok lo vedo Oddio ma già c'è gente A livello 5 Con i polli Non ce la faremo mai Attacca Anna Ok l'hai mazzata Evolviti Ti copro No qui c'è il pollo Che si sta colvendo No 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 Vince 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 No Troppo tardi ha vinto Dai era qui dentro l'uovo Guarda è il livello 5 Questione di un secondo Anna è arrivato sopra di me ragazzi Era un pollo Ha vinto lei Prima siamo arrivati allo stesso livello Adesso è un livello sopra di me Ha vinto Ho vinto Eh vabbè ragazzuoli Questo video finisce qui Ovviamente vi ricordo di passare al suo canale Perché se non passate siete delle brutte persone Vi ricordo anche di lasciare un like Qua sotto se volete che continui questa serie E niente Ci becchiamo domani con due nuovi video C'è Alex dietro di noi Che salta sui ceppi di legno Ciao ciao Ciao